Sì, è stata una partita piacevole, credo che chi è venuto oggi a Parona si sia divertito perché comunque sono state segnate più di dieci metri, è stato onorato lo spirito del derby, tutte e due le squadre non si sono risparmiate, noi abbiamo portato a casi cinque punti come ci eravamo prefissati e questo è l'importante, è stata una partita ruvida, se l'aspettavamo forse da parte nostra avremmo dovuto in qualche momento gestirlo un po' meglio, però va bene così. Alcune cose positive, mischia, tuge, drive, altre cose un po' da registrare, a volte siamo un po' soffici in difesa e abbiamo concesso qualche pallone abbastanza facile al loro attacco. Qua domenica prossima arriva Piacenza e da lì vedremo come vanno le cose.